La Calabria è entrata ufficialmente nell'ultima stagione di campagna elettorale e uno dei temi più scottanti, o quello che dovrebbe essere uno dei temi più scottanti, non sempre lo è, è capire se all'interno di compagini politiche candidate a queste elezioni regionali ci sono degli interessi dei clan o comunque legati a favori all'andrangheta o comunque interessi di indrangheta per l'elezione di uno o dell'altro candidato. È particolarmente importante in questo periodo perché non è una novità e ovviamente stiamo vedendo in questi giorni delle notizie che non fanno particolarmente clamore perché sono questioni giudiziari, ma che ancora una volta ci ricordano come il tema è particolarmente spinoso. Ad esempio abbiamo visto negli ultimi giorni il rinvia giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa dell'onorevole Pietro Fuda, l'onorevole Pietro Fuda che già dall'operazione mandamento ionico avevamo visto con delle pesanti accuse di scambio elettorale con persone vicine alla Cosca Cordì a favore dei commisso, ma è appunto un personaggio che è stato particolarmente importante per la politica calabresa, ex presidente della provincia di Reggio Calabria, ex senatore, più volte assessore e dal 2015 al 2018 anche sindaco di Siderno prima che il comune venisse sciolto per prossimità mafiosa. È particolarmente importante ricordarsi che ovviamente molte cose a processo devono essere provate, però diciamo le accuse sono già motivo di preoccupazione. Un altro evento di questi giorni riguarda l'operazione basso profilo che aveva visto l'anno scorso una serie di arresti relativi a una rete di interessi tra politici, imprenditori, amministratori con accuse varie di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso, in particolare in relazione a delle cosche del crotonese ma anche con degli elementi nelle cosche del regino. In particolare di recente, negli ultimi giorni, la Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari per Francesco Talarico, ex assessore al bilancio del Consiglio regionale. Aveva escluso però per Francesco Talarico l'accusa di corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma la Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per valutare gravi indizi di colpevolezza. Quindi Talarico, che al momento è sottoposto all'obbligo di timora, verrà giudicato per scambio elettorale politico mafioso per l'elezione del 2018 e per voto di scambio che è volto a appoggiare alcuni imprenditori a vantaggio di alcune cosche del regine del crotonese. Ovviamente a prescindere dal fatto che tutti sono da considerare innocenti prima di ogni giudizio, è importante ricordarsi che ci sono storicamente molte tipologie di interessi tra mafia e politica che sono state studiate anche nell'ambito di studi sulla corruzione. Di recente in un libro pubblicato dal Mulino, il professor Alberto Vannucci e la professoressa Donatella della Porta, in un libro che si chiama La corruzione come sistema, ci ricordano che ci sono almeno quattro tipi di scambio tra politica e mafia, che non tutto va trattato come collusione, non tutto va trattato come responsabilità sia del politico sia del mafioso, le cose sono sempre molto più complesse. Ci sono scambi simbiotici in cui sia il clan sia il politico per un periodo lungo, durante nel tempo, si impegnano a favori l'un l'altro. Ci sono situazioni in cui il politico regola l'accesso di alcuni mafiosi e non di altri all'interno di alcuni servizi dell'amministrazione pubblica. Ci sono poi dei casi particolarmente estremi di sostituzione, di colonizzazione della mafia nella politica, quando il mafioso entra in politica o quando il mafioso legge mette il suo prestanome in politica e poi ci sono gli scambi occasionali che sono relativi a delle situazioni ad hoc. In Calabria siamo particolarmente a rischio sia di simbiosi che di scambi occasionali e ovviamente nessuno vuole arrivare a momenti di sostituzione. È particolarmente importante che chiunque vinca queste elezioni guardi a un sistema di prevenzione perché non ci siano né simbiosi e né soprattutto scambi occasionali o sostituzioni.